La fermata Giardino di Roma del trenino della Roma Lido era stata definita da Roma Capitale un'opera strategica decenni fa. Eppure gli abitanti del quartiere che avevano comprato casa con la promessa che l'opera sarebbe stata realizzata non ne hanno saputo più nulla. Ora l'ennesimo dietro front da parte del Campidoglio. La stazione si farà. Tempi di attesa 5-10 anni. La convenzione nasce nel 1998. La convenzione tra Roma Capitale e il soggetto che doveva edificare tutto questo comparto, questo quartiere. Per cui si stabilisce fin da allora che insistendo su questa area aveva bisogno di essere collegata alla rete ferroviaria e quindi alla rete metropolitana. Dopodiché nel 2006, da carte, con un estratto del verbale di Roma Capitale, si legge che questa stazione rappresenta un'opera strategica e che farla, interamente a costo del costruttore, rappresenta un'accelerazione addirittura di una priorità che Roma Capitale sente al massimo livello. Dal 2006 ad oggi contiamo 12 anni. A PEC di richiesta Roma Capitale risponde confermando che si tratta di un'opera strategica che viene realizzata nel giro di 5-10 anni. Questo nel 2017, quindi siamo a possibilmente, ipoteticamente, 30 anni da quando è stata definita un'accelerazione, un'opera strategica. Insomma, voglio dire, non si riesce a uscire, la mattina non si riesce a uscire da questo quartiere. Oltretutto questa è la criticità attuale. Se ci aggiungiamo la criticità futura che sarà rappresentata dalla realizzazione, dall'inizio dei lavori per il sottopasso della Cristoforo Colombo, che quindi priverà a questo quartiere di una delle due porte di uscita e rientro. Il rientro è già difficoltoso sia da una parte che dall'altra. Insomma, salteremo operare, ci vorrà l'elicottero per uscire da questo quartiere, sia la mattina che la sera. Non saprei. Penso che, insomma, si debba parlare seriamente di questa stazione e se ne debba parlare, soprattutto perché poi noi, che siamo tantissimi, siamo più di Vitinia, ci scarichiamo su Vitinia la mattina, quelli di noi che prendono la metropolitana. Quindi creiamo ancora più problemi e già si sa che questo è un carro merci. La situazione è peggiore e peggiorerà ancora perché poi i residenti continuano ad aumentare. Siamo quasi 4.000 famiglie per 10-12.000 residenti. Vi immaginate voi se si possa costruire un quartiere di questo tipo, bellissimo per carità, che non ha però la possibilità di entrare e uscire, non dico comodamente, ma in modo dignitoso la mattina. Un'opera che si farà, pare, se si spera, se va tutto bene, tra 5 e 10 anni. Cosa potrebbe portare in più a questo quartiere? Beh, indubbiamente risolverebbe molto la mobilità di tutti i residenti che si muovono con mezzi propri e che quindi intasano ulteriormente ancora di più la Colombo e l'Ostiense. Qui la mattina ci si impiega circa un'ora per uscire dal quartiere perché ovviamente queste vie sono già molto impegnate, tutto il traffico che viene da Ostia e quindi la fermata qui risolverebbe per i 12.000 residenti del nostro quartiere la possibilità di accedervi. Voi vi recate a Vitinia a prendere la metro? Abbiamo un mezzo urbano che ci collega con Casal Bernocchi che è la fermata successiva. L'accesso a Vitinia, come abbiamo già avuto modo di commentare in passato, è molto complicato, quindi non si riesce ad accedere per via del traffico e per via che non ci sono via di accesso. Una delle attività, una delle realizzazioni che contiamo di sollecitare ulteriormente è il passaggio ciclopedonale con Vitinia che ci consentirebbe di accedere più facilmente. Questo è un quartiere decisamente giovane, nato da pochissimo, quasi tutti hanno comprato casa già con l'idea che la metro sarebbe stata costruita. La state aspettando con ansia? Indubbiamente sì, è uno dei vincoli che contrattualmente erano stati fissati dal costruttore per offrire questi appartamenti. Siete sentiti un po' delusi che poi alla fine sembrava naufragare? Beh, più che delusi, diciamo, turlupinati. Abbiamo pagato delle quote, così come il centro civico è un'altra opera che era prevista e che non è stata realizzata e che invece i residenti hanno pagato ma non vedono di possibilità di utilizzarla. Una fermata della metro che sembra che finalmente vedrà a luce, quali sono i benefici che può dare a questo quartiere e che cosa vi aspettate? Dunque, i benefici che può dare al quartiere una stazione della metro funzionante? Che specifica funzionante? Funzionante intendo perché nel passato di questa città purtroppo abbiamo assistito anche all'incredibile costruzione di stazioni della metro che poi non hanno più funzionato. Ricordo i mondiali fu creata una stazione della metropolitana in zona centrale di Roma che poi non trovo mai funzionamento, quindi abbiamo visto tutto anche questo, quindi possiamo ipotizzarlo, purtroppo credo non succeda ma lo ipotizzo. Invece una stazione funzionante della metro non cambia la vita solamente dei cittadini di questo quartiere che sono molti, ma di tutta questa zona. Questa è una... la zona che dall'Eur va verso il mare è popolata, negli ultimi anni si è popolata sempre di più, c'è una popolazione così numerosa che le strade che sono state costruite nel passato non possono più assicurarne il movimento regolare. Noi che abitiamo qui per andare a lavorare io devo andare in ufficio, devo arrivare intorno alle 8, qui ci alziamo alle 5, usciamo quando è buio perché se sbagli di 10 minuti arrivi in ritardo. Questo perché c'è una viabilità che fu progettata quando ci abitava un decimo delle persone che abitano ora, quindi gli autobus sono pochi, le linee sono anche linee abbastanza locali, quindi la metropolitana cambierebbe in maniera sostanziale, ma in maniera... un salto di qualità lo chiamerei, ecco, un salto di qualità. Qualora la Roma Lido dovesse, diciamo, arrivare finalmente anche a Giardino di Roma, voi trovate che sia una linea sufficiente? Purtroppo questo è il vero problema pratico che esiste. Questa non è una linea, secondo me, che può oggi definirsi idonea per la metropolitana, tanto che non è una metropolitana, è un trenino che porta da Roma al Lido di Ostia. Far funzionare la linea della metropolitana vuol dire trasformare proprio a livello anche tecnico i binari, c'è bisogno di altri scambi, c'è bisogno di investire degli importi significativi che però, a mio avviso, sarebbero voci di spesa che porterebbero beneficio anche in termini di consenso, diciamo, verso l'amministrazione elevatissimo perché sarebbero investimenti veramente funzionali nella vita dei cittadini perché alla fine poi tante cose si possono fare ma le cose che più incidono nella vita dei cittadini sono quelle che poi cambiano proprio l'atmosfera di una zona e la gente può diventare addirittura contenta. La metropolitana in questa zona, ripeto, non nel nostro quartiere, in questo quadrante sarebbe il cambiamento forse epocale proprio di qualità della vita dei cittadini che vivono dall'Eur verso il mare. Se tutto va bene, la nuova fermata della Roma al Lido sorgerà accanto a questo parcheggio di via Erminio Macario. Da Giardino di Roma per Canale 10, Gabriele Tesoro.